Oggi voglio farvi vedere l'inizio della finitura. Qui vediamo una parte, la prima mano intimata, della finitura. Qui vediamo la parte della stabilitura, la rete della rasatura armata e questo è l'intonaco di finitura che è proprio il colore che verrà dato all'edificio. Una prima mano di questa e una seconda mano sopra per la finitura vera e propria che è l'aspetto che avrà questo edificio. Ecco qua. Qui la vedete ancora bagnata e già nella parte asciutta si vede come la calce si contestualizza molto bene con i tuffi delle porte e finestre, armonizzando tutto quello che è l'architettura di questo palazzo storico. Qui sotto vedete ancora da fare sia la stabilitura e lì la rete della rasatura armata che è il vero e proprio colore di finitura della facciata. Qui vediamo la facciata quasi ultimata, c'è la prima mano stesa, è ancora in fase di asciugatura. Bellissimo, guardate il colore che è un nocciola color giallo molto naturale. Ciao!